Bu 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 TG Fisbio Bentornati ad una nuova edizione del TG Fisbio Edizione di mercoledì 9 settembre dedicata al nuovo 3381 di Topolino Partiamo subito con copertina di Paolo Mottura e disegni di Andrea Cagolo che rappresentano la storia che vediamo a pagina 9 Topolino Giramondo Il ritorno del Bluesman, prima parte, e a pagina 38 la seconda parte Storie di Gabriele Panini e Beppe Zironi, disegni di Beppe Zironi. Proseguiamo a pagina 59, Paper Bridge, capitolo 3, La Festa d'Inverno, testi e disegni di Marco Gervasio. E a pagina 89, Vita da Rock Band, la sola prove. Storie di Giorgio Salati, disegni di Emilio Urbano. E a pagina 102, Zio Paperone e Consigli Proficui. Storie di Carlo Panaro, disegni di Ottario Panaro. Oh, Dio li fa, poi li accoppia, li accoppa, dipende da che punti di vista. E a pagina 123, Storia Povera Antica Roma. Storia Augusto, macchetto, disegni di Roberto Vian. Ma premiamo il pulsante del teletrasporto e arriviamo in media subito a pagina 161 per il next. Topolino 3.382. Si parte con Mini Preta Porter, questione di stile. Paper Bridge, capitolo 4, La Ragata. Topolino d'Origini. Madonna mia, it's back! Una solatissima promozione. A seguire Paperoga e la Gallino Cinesi. Archimede e la sovra pianificazione culinaria. E infine Amelia e la malefica obsolescenza. Già il nome mi triggerà. Ed ora le statistiche della settimana del The Fisbio Show. Vince, stravince, convince Marco Gervasio con il Paper Bridge, capitolo 2, il lato oscuro. Sia su Facebook che su Instagram. Ma non riesce a fare il triplete, trigger. Perché sul canale Telegram vince con il 50% delle preferenze la storia di Bruno Sarda, Marco Palazzi e Giorgio Cavalzano. Zio Pamerone e il business itinerante. Riprovaci ancora Gervasione. Ed ora le previsioni intanto attese del nostro meteorologo preferito alla linea Fisbiacci. Ciao baby, buongiornissimo caffè. Oh, buongiorno, buongiorno. Scusa amore, ti chiamo dopo. Benvenuti, previsioni improvvisate del colonnello Fisbiacci. Numero particolare, perché? Mi stavo baccagliando, maledetti. Comunque, topolino giramondo, ritorno bluesman, panini zidoni, bravi e belli. Sole, sole, perché è una storia, secondo me, molto interessante, anche se in due parti. Bene, bene, bene. Pagina 59, Paper Bridge, capitolo 3, la festa d'inverno, Marco Gervasio, la festa di disegni. Dai, spiragli di bel tempo. Pagina 89, vita da rock band. Cos'è? Cos'è sta roba? La sala prove, salati urbano, nuovo, non te la consiglio. Pagina 102, zio padrone, i consigli proficui, i fratelli Panaro, i cugini Panaro, i cognati Panaro. Non lo so, ma da di fatto sta, che sono Carlo e Ottavio. Testi, disegni, inchiusura, mal di gambe. Storia papara dell'antica Roma, Augusto Macchetto. Poi, il filosofo, Roberto Vian. Soporifero cosa parla, eh? Bene, vi saluto. Devo offrire un cicchettino a questa bionda. Saluti. Appuntamento la prossima settimana. Motivi mono. E anche per questa edizione di Cifisby è tutto. Appuntamento la prossima settimana. Po 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 Grazie a tutti